Benvenuti all'episodio introduttivo di Pausa Caffè, questo nuovo percorso targato Trippiat dentro il quale approfondiremo un pochino tutti i temi che ruotano attorno a questo progetto che ormai da quasi un anno e mezzo ci vede impegnati a creare degli spazi di libera espressione, chiamiamoli così. Quindi in questo percorso che non avrà una regolarità ma uscirà tendenzialmente quando avremo qualcosa da dire troverete la mia voce, quindi Vincenzo o Viking Vince come preferite, poi approfondiremo anche questo discorso e troverete le opere grafiche come al solito di In The Noise che diciamo arricchiranno un pochino di contenuti anche visivi questo episodio e questo percorso. E quindi essendo l'episodio introduttivo direi che è giusto cominciare da un approfondimento sui nomi in generale partendo magari da Pausa Caffè. Perché questo spazio si chiamerà Pausa Caffè? In primo luogo perché spero che gli episodi non arrivino a durare più di 15-20 minuti in modo tale che io non debba inventarmi troppe stupidaggine e voi non dobbiate annoiarvi troppo nell'ascoltarle. In secondo luogo parlavamo prima con In The Noise, per adesso lo chiameremo così, e abbiamo convenuto entrambi che Pausa Caffè fosse un nome molto evocativo perché si può dire che Tripiat sia nato durante una cosiddetta Pausa Caffè e quindi anche come nome non pone dei vincoli di argomento, lascia la libertà di affrontare ogni cosa che ci passerà per la testa con la serietà per l'appunto con cui si affronta una conversazione durante una Pausa Caffè, quindi tendenzialmente con una chiave di lettura caratterizzata dalla leggerezza. E questa leggerezza sicuramente ci porterà ad affrontare dei temi sempre magari correlati al progetto tripiatto, magari correlati al nostro modo di pensare che non andranno presi troppo sul serio. O meglio, saranno sempre delle nostre opinioni personali e il nostro modo di vedere ed interpretare il mondo che ci circonda. Quindi non abbiamo una pretesa di dire verità assoluta o di affrontare temi anche sensibili, perché no, in modo serio. O comunque in modo serio, ma non assoluto. Magari in futuro, invece che un monologo, sarà una chiacchierata con degli ospiti. Quindi non esiste una vera e propria programmazione degli episodi e non esiste allo stato attuale neanche una programmazione dei contenuti del singolo episodio. Quindi abbiamo fissato un tema chiave per adesso e sto andando a braccio. Credo si percepisca, tra l'altro. Comunque, parlando di nomi, vorrei affrontare un tema a cui tengo molto, che è, diciamo, il nome Viking Vince. Il nome Viking Vince è un nome nato per caso, coniato da un carissimo amico, nonché ormai quasi fratello aggiunto, sarei dire, che lo utilizzava per prendermi in giro, approfittando della mia passione per la storia vichinga e la mitologia norrena in generale. Quindi nel momento in cui ho dovuto, e sottolineo ho dovuto, creare un personaggio, un alter ego o una copertura, e dopo spiegherò il perché la definisco una copertura, Viking Vince è stata la scelta principale, la più immediata e la più istintiva. Tale scelta senza dubbio poi è stata consacrata dall'uscita sulle piattaforme digitali del lavoro d'esordio, quindi da Tormento Mixtape, in quanto per quel lavoro In The Noise creò un logo utilizzando le iniziali del nome Viking Vince, che secondo me è spettacolare, e che ha quindi di fatto ufficializzato l'utilizzo di Viking Vince su tutto quello che riguarda poi la parte musicale del progetto Trippiat. Però perché definisco Viking Vince come una copertura? Altro non dovrebbe essere se non un alter ego, un personaggio, solo che io sono sempre stato contrario ai personaggi, perché mi danno l'impressione di essere un qualcosa di costruito, un estranearsi dalla realtà per recitare per l'appunto una parte. Quindi preferisco definirlo una copertura, preferisco definirlo come un agire mandato da me stesso, però in maniera occulta. Quindi c'è sempre Vincenzo dietro Viking Vince che altro non fa se non essere se stesso. Per essere se stessi però c'è bisogno di una copertura, per il semplice fatto che esiste un conflitto, quantomeno nella mia mente, nel mondo esterno non lo so, però credo di sì, tra, diciamo, parte razionale e parte istintiva dell'individuo, chiamiamola così. È un conflitto che, diciamo, tende a contrapporre la parte professionale della vita dalla parte, chiamiamola, artistica, posto che la parte artistica non sia, diciamo, quella che ti dà da vivere. E di conseguenza c'è bisogno di una copertura per potersi esprimere liberamente, ma non perché questa libera espressione porti o rappresenti delle idee che siano proibite, a parte che secondo me non dovrebbero esistere delle idee proibite, però questo è un altro discorso, ma semplicemente per il fatto che è opportuno nella società di oggi, almeno secondo me, separare la parte professionale da quella che è la parte di vita, diciamo, un po' più personale. In sintesi, Viking Vins agisce avendo come mandante Vincenzo, portando avanti le idee di Vincenzo indossando una maschera, perché è innegabile che una maschera ci sia. Non mi piace neanche definirlo come un alter ego, perché credo, visto che in latino andavo molto male, che alter ego significhi altro io. Io credo di essere unico in tutte le mie sfumature, in tutte le mie sfaccettature di personalità, spesso anche contrapposte l'una con l'altra. E quindi preferisco definirla maschera piuttosto che alter ego, o piuttosto che personaggio. Una maschera o, per l'appunto, una copertura. Poi è ovvio che sia una copertura molto sottile, perché la maggior parte della gente che magari ascolta la musica o segue il progetto Trippiat, sicuramente sa chi c'è dietro a Viking Vins, e sa chi c'è dietro a In The Noise, però io credo che una distinzione, anche formale, sia opportuna, e sia anche quasi dovuta. Non dico di essere del tutto d'accordo sul fatto che dovrebbe essere così, ma sicuramente allo stato attuale è giusto che sia così. Ciò non toglie che nei testi, nelle musiche, nelle canzoni in generale, troverete sempre le emozioni, i pensieri, le opinioni e le esperienze di Vincenzo, dette tramite Viking Vins. Perché altro non potrebbe essere, e in altro modo non potrebbe esistere, la musica che faccio. La faccio perché in primis mi piace, e poi perché voglio raccontare qualcosa, e come faccio a raccontare qualcosa che non sento, che non penso, che non ho vissuto. Non sono Salgari o Salgari che si è immaginato la Malesia per scrivere, insomma, le avventure di Sandokan. Io sono una persona comune che parla di quello che vive, di quello che pensa e di quello che sente, e spero continui ad essere sempre così, soprattutto quando faccio musica. Perché non credo ci sia altro modo per fare musica, e non credo ci siano altri obiettivi reali nella musica, se non raccontare se stessi o trasmettere qualcosa. E a proposito di trasmettere, credo sia arrivato finalmente il momento, dopo un anno e mezzo, di parlare di Trippiat, di questo progetto che con In The Noise portiamo avanti per trasmettere appunto qualcosa. Non credo di riuscire a spiegarvi che cosa significhi il nome Trippiat, un po' perché è personale, quindi andrebbe contestualizzato, un po' perché è casuale, quasi oserei dire. Però sì, posso approfondire il contesto in cui è nato. Tendenzialmente io e In The Noise abbiamo fatto l'università nella stessa città, quindi a Perugia, e vivevamo nella stessa struttura, quindi ogni pausa dallo studio era caratterizzata da un incontro sul terrazzo, perché entrambi eravamo dotati di un ampio terrazzo con vista, sulle splendide campagne ombre, prendevamo un caffè, facevamo due chiacchiere, ascoltavamo musica. In quel periodo, diciamo, avevo cominciato a scrivere i miei primi testi, a produrre le mie prime basi, e tendenzialmente erano però a scopo prettamente personale, ovvero nessuno aveva mai ascoltato nulla. decisi di farli ascoltare a In The Noise, perché sì, insomma, perché neanche sto a spiegarvi il perché, perché siamo amici e chi se non lui, e da lì, diciamo, si accese anche la scintilla a lui, che aveva un pochino messo da parte, diciamo, il disegno, e mi disse una cosa che ancora oggi mi fa molto onore, mi rende molto orgoglioso, che ascoltando magari la mia musica aveva voglia di disegnare. E quindi tendenzialmente è nata, diciamo, questa collaborazione nel dire io registro e faccio musica, tu intanto nel frattempo disegni. E quindi ci trovavamo e portavamo avanti ognuno la propria arte, fino al giorno in cui mi presso parecchio per pubblicare qualcosa. Tendenzialmente non ci vuole molto per convincermi, perché in fondo sono anche abbastanza egocentrico e mi fa sicuramente piacere ricevere l'approvazione di altri, anche se ovviamente non è il motivo e lo scopo principale per cui si fa musica, come dicevo prima, perché veramente sarebbe un fallimento, secondo me, dell'essere umano fare qualcosa soltanto per piacere agli altri. Ma questo è un discorso che magari affronteremo più in là, anche il discorso legato ad Instagram, al creare hype e a tutte queste altre, secondo me, stupidaggini, perché ovviamente fa piacere quando la propria musica o la propria opera viene ascoltata o viene vista e viene apprezzata, ma se si fa solo in ragione di quello, secondo me perde un po' di significato. Quindi tendenzialmente, ecco, questa collaborazione ha preso il nome durante una sera in cui stavamo semplicemente ascoltando musica, facendo musica o disegnando, prese il nome di Triviat. Questo nome poi si è consolidato nel tempo. Io dopo poco mi ricordo partì per l'Uruguay per fare tre mesi di esperienza in Uruguay e quindi comunque anche a distanza ci sentivamo, portavamo avanti, diciamo, le nostre opere, portavamo avanti i disegni. Io in quel periodo ho più i beat, più le produzioni musicali che i testi, anche se devo dire che in Uruguay ho scritto gran parte di Tormento Mixtape, però sempre in stretto contatto con In The Noise, quindi tendenzialmente tripiattando, sempre più consolidandosi fino a divenire quello che è oggi, che è comunque un qualcosa che ancora è sempre in mutazione, si evolve. Pausa Caffè probabilmente è l'esempio più lampante del fatto che siamo sempre alla ricerca di nuovi spazi e nuovi modi per esprimerci. Poi non è da sottovalutare il fatto che sia un ottimo pretesto per continuare a stare in contatto, anche se ovviamente saremmo in contatto lo stesso, anche se Triviat non esistesse, però in questo momento ci troviamo non solo in città diverse, ma in nazioni diverse, quindi sicuramente avere un progetto comune da portare avanti favorisce senza dubbio la comunicazione e la collaborazione. Detto ciò, io credo che sia arrivato il momento di chiudere questo episodio introduttivo di Pausa Caffè. Devo dire che mi sono molto divertito registrandolo, specialmente nella seconda parte ci avevo preso gusto, quindi senza dubbio ci saranno degli altri episodi, a prescindere dal riscontro che si avrà negli ascolti, perché, insomma, l'ho detto prima, l'importante è sempre divertirsi, l'importante è sempre esprimersi, l'importante è sempre valorizzare anche il tempo libero che si ha, perché non esiste solo la vita professionale, che è comunque importante ed è qualificante, ma esiste anche la vita che io definisco vera, che è quella in cui ognuno riesce ad esprimere e a caratterizzare, a dare una direzione alla propria vita. Aggiungo un'ultima cosa sul progetto Trippiat, perché mi sono reso conto di volerla dire e non ho voglia di rifare l'ultima parte di registrazione. Sicuramente è un buon modo anche per rimanere in contatto con il proprio passato, perché il periodo universitario sicuramente è stato uno dei periodi più belli della mia vita, e quindi credo che continuare un progetto avviato in quegli anni sicuramente non riporta indietro tutto, non fa viaggiare indietro nel tempo, ma sicuramente aiuta a rimanere un po' ancorati alle idee e alle sensazioni che si provavano durante quel periodo. E quindi anche, diciamo, l'aspetto malinconico non è da sottolineare, quindi nulla. Con questa frase pseudo-filosofica, pseudo-malinconica, io vi saluto. Spero di non avervi annoiato troppo e ci vediamo al prossimo episodio di Pausa Caffè. Spero di non avervi annoiato un po' ancorati e ci vediamo al prossimo episodio. e ci vediamo al prossimo episodio di Pausa Caffè.